Stamattina è stata una mattinata difficile, non riuscivo a cacare. Ci ho provato uno, ci ho provato due. Alla terza mi son detto, ma perché non prendo un moment merd? È una pillola che ti fa ricordare tutte le persone di merda che hanno fatto parte della tua vita. Dopodiché, puff, in un attimo, leggere attettamente il foglio illustrativo o tenere lontano dalla portata dei bambini potrebbe causare la merdite.